Un pomeriggio alla Casa Internazionale delle Donne di Roma per riflettere sulle ragioni per cui non si ferma la scia di sangue e di dolore che porta alle strutture dei centri antiviolenze e alle aule dei tribunali quando non tragicamente alle prime pagine dei giornali. La giudice Paola Di Nicola ha provato a rispondere con un libro, La mia parola contro la sua. Il tribunale è il teatro in cui si rappresenta la società civile e l'immagine della donna su questo palcoscenico è carica di pregiudizi. Nel nostro contesto culturale, sociale, politico ed economico alle donne non si dà credito. Le donne mentono, le donne sono vittime di stereotipi molto sottili ma anche molto espliciti e tutto questo entra nell'aula di giustizia. Oggetto di pregiudizi ancestrali, spesso le donne in tribunale devono innanzitutto dimostrare di essere vittime di violenza. Un uomo che denuncia un furto o un'aggressione non deve convincere di aver detto la verità. Una donna che denuncia di essere stata picchiata o scuprata spesso deve prima dimostrare che è accaduto davvero e che non se l'è andata a cercare. E anche quando la violenza è accertata e documentata spesso arrivano le sentenze di assoluzione per l'aggressore. Un esempio per tutti sono le cosiddette liti coniugali. Cioè spesso accade che quella che è una violenza che viene esercitata in maniera inaudita, continuativa nei confronti di una donna, viene poi sinteticamente definita semplicemente come liti coniugali e in questo caso si arriva alle assoluzioni. Le pagine di cronaca sono piene di morti annunciate, maturate in contesti in cui tutti sapevano. I processi di maltrattamenti, quei maltrattamenti che durano anni e che si concludono talvolta con il femminicidio, sono coperti da omertà. È un'omertà familiare, un'omertà professionale, nel senso che il contesto in cui ha vissuto la vittima era consapevole. La commissione sul femminicidio ha rappresentato come in 18 casi su 20 i testimoni di un processo per femminicidio fossero pienamente a conoscenza di quello che aveva vissuto e stava vivendo quella donna prima di essere uccisa. Nella sua battaglia contro i pregiudizi ai luoghi comuni, Paola Di Nicola nel 2016 aveva condannato uno dei clienti delle due minorenni indotte a prostituirsi ai parioli, non a risarcire la vittima con 20.000 euro come richiesto dagli avvocati, ma ad acquistarle libri e film che parlassero del valore e dell'importanza dell'essere donna. Attraverso l'esercimento del danno economico che mi era stato richiesto.